Ben ritrovati a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale, parliamo di calcio a mercato ora perché lo sappiamo tutti la necessità, l'esigenza primaria del Milan dei prossimi anni sarà l'attaccante perché il Milan ha sì Ibrahimovic, ha sì Giroud, però sono due attaccanti che ormai sono verso la fine della loro carriera. Quindi Milan sta monitorando, sta setacciando il mercato nazionale e internazionale, interessa ragazzo promettente Lucca del Pisa Calcio, ma piace molto anche questo ragazzo, questo ragazzo che è milita nel Benfica, l'abbiamo potuto osservare in Champions League dove ha fatto molto bene anche contro Barcellona ed è un profilo che piace moltissimo alla dirigenza rosso-nera. Stiamo parlando di Darwin Nunez, attaccante appunto del Benfica, che ha pagato molti milioni di euro, ha pagato circa 24 milioni di euro quando lo acquistò e adesso valuta circa 40 milioni di euro. È un attaccante classe 99, che piace al Milan perché è un giocatore molto tecnico, con una grande forza fisica e abbina qualità tecniche, tattiche, ma soprattutto umane, professionali, importanti. È un giocatore molto serio, un giocatore molto determinato, che ha grande voglia di crescere e sembrerebbe che il Milan lo stia studiando perché il Milan sta in qualche modo progettando il futuro, l'attacco del futuro. E se da un lato sta valutando Pellegri dove il giocatore sta crescendo anche di condizioni fisiche e nel lungo periodo potrebbe anche disputare degli spezzoni di gara importanti, adesso sembrerebbe che il Milan, vista anche le condizioni fisiche precarie di Giroud e di Zalato Nunez, invece la prossima estate potrebbe muoversi per un attaccante davvero, davvero importante. Secondo me l'attaccante è una questione prioritaria per il Milan, è un'esigenza troppo importante, visto e considerato anche la mole di gioco che la squadra sta in qualche modo offrendo, avere un terminale offensivo di un certo livello potrebbe portare il Milan a fare molti più gol e essere ancora molto più vericolosa. Infatti il Milan quando Ibra e Giroud stanno bene è molto difficile, è una squadra molto difficile da battere. È un giocatore, scusate, Darwin Nunez che piace molto, c'è tanta concorrenza sul calciatore, sembrava interessato a Barcellona ma come tutti sapete sta vivendo un periodo economico e finanziario molto difficile e il giocatore interessa molto in Italia e ci sono su di lui sia l'Inter che la Juventus. È un profilo di attaccante che piace molto all'Inter perché è un profilo internazionale, è un giovane, mi ha dimostrato di essere molto abile sia come prima punta ma anche all'occorrenza come seconda punta. L'Inter sta valutando anche lei come Milan per le esigenze di Gekon, un più giovanissimo e Sanchez, sta cercando un profilo giovane che sappia conciliare entrambi i ruoli. E la Juventus che studia sempre il mercato internazionale, qualche volta anche i suoi interessamenti cercano di depistare, di in qualche modo di rendere più complesse le trattative. Il Milan sta valutando tanti giocatori, tanti nomi, come sempre si taccia molto bene il mercato nazionale e internazionale, valuta diversi profili, li studia ad hoc, un po' come il caso di Mike Magnan e di Fikaio Tomori. Ma questo giocatore è un giocatore sicuramente interessante che va osservato e che va tenuto sotto controllo perché è il Milan. Visto anche gli ottimi ravorti con il nuovo presidente di Benfica, Manuel Ricosta, ex squadro rosso-nero, potrebbe anche facilitare l'operazione. È un'operazione comunque molto difficile perché trattare comunque con le squadre vortoghesi è sempre molto molto arpa. Volevamo portarvi questo aggiornamento e come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere un mi piace, di condividere e di scrivere al canale YouTube di Rubrica Rosso-Nera.